E poi ovviamente il cinema. Quella di Luca e Miriam è una vita sempre sul set. Non penso che la vita di due medici o di due avvocati sia tanto più leggera. Anzi, forse noi ci divertiamo di più di uno che sta davanti al computer 15 ore al giorno. È una passione grande che condividete. Sì, beh, il cinema sì. Siamo conosciuti sul set, quindi... Un ruolo che ti piacerebbe fare nel futuro? Una domanda da un milione di dollari, non lo so. Mi piacerebbe continuare a fare questo lavoro più che un ruolo. È una mia passione questa, non è un lavoro. Quindi sarebbe bello, visto che dipende sempre anche da... Eh sì, da qualcuno che ti sceglie, spero di continuare a scegliere. Una passione quella per il cinema che ha portato Luca a impegnarsi anche nel progetto Megatube, ovvero il primo multichannel network che sfruttando le potenziali...